Nella marca l'uso di alcol è uno dei fenomeni che continua a preoccupare di più. Nei giovani tra i 18 e i 24 anni il 16% del campione intervistato riferisce di consumare alcol in quantità tale da ubriacarsi. Non solo, ma sono sempre più le giovanissime a fumare il 36% contro il 35% nei maschi. Ed è esattamente il contrario invece per gli adulti. Gli uomini fumano di più delle donne, mentre solo il 48,7% di esse pratica attività fisica ai livelli raccomandati rispetto agli uomini ed il quoziente di casi di obesità è salito in 5 anni di 4 punti. Sono questi alcuni i dati di uno studio eseguito dal servizio epidemiologico dell'azienda sanitaria locale ULS2 di Treviso in occasione dell'8 marzo. Non cambia invece la tendenza sull'invecchiamento della popolazione nel suo insieme che continua a crescere. Oggi ogni 100 under 15 vivono in provincia 188 donne che hanno più di 64 anni e secondo le proiezioni nel 2030 la popolazione totale femminile sarà leggermente diminuita rispetto a quella attuale ma le ultra 85 anni saranno 25.000, cioè il 19% in più di oggi. Preoccupano un po' anche la salute psichica nella popolazione femminile trevigiana. Cresce infatti la percentuale di persone che riferiscono importanti sintomi di depressione.